Assalto da un portavalori del Livri a Prato la Peligna. Un commando di rapinatori, incappucciati e armati con fucili da caccia, hanno assaltato un mezzo blindato che trasportava circa 80.000 euro destinati alle poste per il pagamento delle pensioni. Una guardia giurata è stata colpita la testa ed è ricoverata in ospedale. I rapinatori, a volto coperto, hanno minacciato con le armi i due agenti, colpendoli poi con il calcio dei fucili e sottraendogli le pistole di ordinanza. I malviventi hanno quindi preso il sacco contenente il denaro e sono fuggiti. I due agenti sono stati trasferiti all'ospedale di Sulmona, diversi punti di suture in testa per uno di loro, per l'altro un forte shock. Il mezzo, una jeeper renegade usata dai malviventi, è stata ritrovata in fiamme poco distante dal luogo dell'assalto nelle campagne intorno ad Introdacqua. I rapinatori sono fuggiti successivamente con altri mezzi. Alla scena hanno assistito anche alcuni dipendenti dell'ufficio postale. I carabinieri che indagano sulla vicenda ritengono i rapinatori comunque ben organizzati e probabilmente provenienti da fuori. Controlli sono scattati su tutto il territorio, con posti di blocco e ricerche da parte di polizia e carabinieri in tutta la Valle Peligna.